Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Lo Sprar a Montesilvano si farà. L'amministrazione montesilvanese è tra le prime in Italia ad accedere al finanziamento governativo per l'apertura dei centri di accoglienza destinati a soppiantare quelli aperti in via straordinaria. Il servizio di Alfredo Primante. Prenderà il via ufficialmente il primo agosto, al massimo entro settembre, il progetto Sprar a Montesilvano che prevede l'accoglienza di 161 migranti in 10 strutture sparse sul territorio comunale. Montesilvano è tra i primi comuni italiani che hanno fatto richiesta ammessi al finanziamento del Ministero dell'Interno per circa 2 milioni e mezzo di euro. Con l'avvio del progetto Sprar si pone fine ai CAS, i centri di accoglienza in regime straordinario. Dunque verranno chiuse le strutture alberghiere sul lungomare che attualmente ospitano circa 200 migranti e che in passato sono arrivate ad ospitarne 350. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello da un lato di offrire accoglienza qualificata con numeri certi rispetto alla presenza di profughi, dall'altro di stoppare il business dell'accoglienza. Su quest'ultimo punto il sindaco Maragno ha usato parole forti scagliandosi contro chi agita le proteste parlando alla pancia di cittadini spaventati. Ma soprattutto andiamo a sconfiggere il business dell'accoglienza fiutato anche da qualcuno che in questi giorni, in queste ore, in culte terrore, istiga i cittadini alla protesta e che in prima persona si era dato da fare per trovare altri immobili da destinare ad ulteriori centri di accoglienza sul territorio andando probabilmente con la precisa finalità a voler far proliferare la presenza dei profughi sul territorio. Noi diciamo stop a questo, diciamo sì ad un'accoglienza qualificata perché siamo tenuti dal governo in virtù dei nuovi accordi fatti con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ad accogliere, però diciamo noi chi accogliere, quando accogliere e soprattutto dove collocarli e come gestirli. Nella struttura ex Artigian Luce, al centro di numerose proteste dei residenti, saranno sistemati circa 38 migranti. Meno del previsto, dice l'amministrazione comunale, perché si sta lavorando anche all'acquisizione di altri immobili con i bandi ancora aperti. Nessun profugo poi nel centro Trisi, rassicura Maragno, la struttura continuerà ad essere ad uso sportivo. Vogliamo evitare i ghetti come in via Ariosta, ha continuato il sindaco, che ha ricordato come chi verrà ospitato a Montesilvano grazie al progetto SPRAR dovrà frequentare obbligatoriamente la scuola se in età scolare oppure prestare lavori socialmente utili. Polverizzare la presenza dei profughi sul territorio in modo tale da garantire a loro l'integrazione, da garantire ai cittadini la sicurezza, ai cittadini di riapproparsi dei propri spazi del proprio territorio da vivere in assoluta tranquillità, ma soprattutto utilizzando gli stessi profughi per un piccolo contributo da dare a favore dei soggetti ospitanti attraverso dei lavori gratuiti. E ora con il prossimo servizio ci spostiamo a Chieti dove il WWF, le associazioni e le organizzazioni di categoria hanno presentato le iniziative che si stanno adottando per scongiurare l'insidamento di Megalò 2. Paolo, un ricorso ad oponendum per Megalò 2, WWF è contrario a questo nuovo sito commerciale. Oggi spiegate in conferenza stampa le ragioni di questo no. Un no perché finora si è rischiato tanto in quanto lì già esiste Megalò 1 e Megalò 1 è stata sfiorata quasi la tragedia nel dicembre 2013 quando c'è stata alluvione perché l'acqua l'ambito, quell'argine che non era stato completato e l'inaugurazione di Megalò 1 è stata fatta nel 2005 e oggi siamo nel 2017 e ancora l'argine in quelle condizioni. Vorrei sapere se le persone che si recano lì in Megalò 1 a fare gli acquisti siano consapevoli, siano state informate di questo rischio. Noi non vediamo proprio la necessità di un ulteriore centro commerciale e questo vorrei sensibilizzare, visto che ne ho la possibilità, tutta la vallata sotto questo profilo perché il Megalò non ha svuotato solo il centro storico di Chieti ma ha svuotato tutti i paesi dimitrofi. Il Megalò non è pericoloso solo per Chieti ma è pericoloso per tutta la vallata. Credo che l'opposizione sia assolutamente doverosa e continueremo a fianco al WWF questa battaglia contro questa opposizione che tra l'altro è un'opposizione al Comitato Via che secondo noi non è stata fatta neanche con i canoni giusti. Ed ora a Teramo i vertici della Ruzzoreti replicano i dubbi allarmistici lanciati dal direttore dei laboratori di fisica del Gran Sasso sulla mappatura della rete idrica sotto al traforo. L'acquedotto Teramano sostiene infatti di essere in possesso delle esatte planimetrie dei laboratori rilasciate dall'ANAS che ne ha eseguito i lavori. I vertici della Ruzzoreti, il presidente Antonio Forlini e i componenti del CDA Alessia Cognitti e Alfredo Grotta non ci stanno a questo continuo disorientare la popolazione teramana sulla sicurezza dell'acqua del Gran Sasso e replicano alle affermazioni dubbiose rilasciate dal direttore dei laboratori di fisica nucleare Stefano Ragazzi e i pochi sindaci che hanno accettato di visitare il centro di ricerca. In buona sostanza il direttore Ragazzi ha riaffermato ai primi cittadini della provincia di Teramo che dormirebbe più tranquillo se l'acqua fosse captata altrove e che non esisterebbe una mappa dettagliata della rete idrica che tocca i laboratori e che permetterebbe una messa in sicurezza più adeguata. Un parlare questo, secondo la Ruzzoreti, è a sproposito visto che l'acquedotto possiede invece tutte le planimetrie dei laboratori consegnate dall'ANAS che ne ha eseguito i lavori. Mancano invece quelle della successiva messa in sicurezza da parte del Commissario Balducci ma che sostiene il Presidente Forlini non possono che essere migliorative. Inoltre dal 1 maggio i 90 litri al secondo che provengono dai laboratori sono stati messi a scarico e non finiscono nell'acquedotto. E allora a che punto siamo? Si chiederanno i cittadini. L'acqua del Gran Sasso è sicuramente ottima ma è comunque auspicabile rimappare le captazioni e soprattutto pretendere che la Regione Abruzzo venga informata e autorizzi ogni piccola modifica effettuata dai laboratori e dalla strada dei parchi che interessi il traforo e di conseguenza la rete idrica. Inizia domani la mobilitazione della CGL abruzzese e di Pescara contro la reintroduzione dei voucher varata dal Governo e che dovrà essere votata dal Parlamento. Sono stati traditi i 3 milioni di italiani che hanno firmato per il referendum dicono i sindacalisti che si preparano alla manifestazione del 17 giugno a Roma. I nuovi voucher calpestano l'articolo 75 della Costituzione e la decisione del Governo di abolirli per evitare il referendum a fine maggio per poi reintrodurli subito dopo scippa i cittadini del diritto al voto. La CGL dunque si prepara alla mobilitazione con una manifestazione di piazza a Roma in programma il prossimo 17 giugno a cui parteciperà anche una folta delegazione dall'Abruzzo. La situazione sui voucher è peggiorata secondo i sindacalisti che si rifanno al proprio testo della Carta Universale dei Diritti del Lavoro che contiene le proposte alternative agli strumenti di flessibilità del lavoro. Per le famiglie intanto è stato introdotto il libretto Famiglia per le aziende e il nuovo contratto di prestazione occasionale. Vengono confermati tetti annuali ai compensi 5.000 euro e non più di 2.500 dallo stesso datore di lavoro. Secco il no della CGL a queste proposte che dicono continuano nel solco della precarizzazione del mondo del lavoro. In Abruzzo si parte da venerdì con una manifestazione al ponte del mare ma poi ci sarà la grande manifestazione di Roma il 17 a cui parteciperà anche la regione Abruzzo. Noi pensiamo che in questo percorso legislativo ci sia margine anche per qualche correzione nel senso che l'emendamento è già stato approvato in un ramo del Parlamento però il 23 dovrebbe passare in Senato. Quindi la nostra manifestazione del 17 si colloca in un percorso che speriamo possa far cambiare quello che è avvenuto perché in caso contrario noi andremo alla consulta. Abbiamo costruito anche un appello al Presidente della Repubblica e noi chiediamo anche ai cittadini della nostra provincia che nella provincia di Pescara noi abbiamo raccolto 4.441 firme che sono state certificate e sono valide. Quindi questi cittadini della nostra provincia facessero sentire anche la loro voce perché è importante poter votare e quando viene sottratto la possibilità di esprimersi con un voto è veramente una minaccia a quella che è la Costituzione del nostro Paese. Quindi il nostro è un appello che speriamo venga raccolto. E ora cambiamo pagina i quarti aquilani per lo sviluppo della città. La lista di Rivoluzione Cristiana per Biondi sindaco illustra il progetto di rinascita per l'Aquila. Il giorno delle votazioni si avvicina sempre di più. Molti gli appuntamenti elettorali. Rivoluzione Cristiana a sostegno del candidato sindaco Biondi mette in campo il progetto quarti ed il progetto sviluppo focalizzandosi soprattutto sul lavoro. Propongono tra le altre cose la moneta parallela sperimentato già in altre parti d'Italia. Noi come lui crediamo fortemente nell'identità della città per cui vogliamo ripartire dai quarti che sono il simbolo della nostra storia e sono il punto dal cui è iniziata la storia aquilana. Quindi il nostro progetto è una valorizzazione dei quarti individuando per ognuno una vocazione. Quindi ci sarà il quarto dedicato alla cultura il quarto dedicato all'ambiente il quarto dedicato ad artisti, artigiani, aquilani e il quarto dedicato alla scienza. È una sperimentazione che è stata fatta in molte parti d'Italia e praticamente consiste nel creare un circuito parallelo. la nostra idea è quella di creare un circuito parallelo attraverso dei benefici dati alle famiglie e ai commercianti che possono utilizzarle per scambiarsi monete in maniera virtuale. Questo che cosa comporta? Al di là delle specifiche tecniche comporta che si mette in circolazione una ricchezza che però rimane sulla città dell'Aquila perché fuori non potrebbe essere spesa perché non avrebbe valore, non ci sarebbe interesse. In questo modo funziona un po' come i coupon dei supermercati cioè tu vai al supermercato ti danno il buono sconto che tu puoi riutilizzare sempre in quel supermercato in questo caso sarebbe nel circuito aquilano e rimarrebbe a sostegno dell'economia aquilana perché per esempio le grandi catene di distribuzione non potrebbero utilizzarlo perché non possono riutilizzarlo all'esterno. Alessio Ciccone ha voluto spiegare l'importanza della ricostruzione delle case dando però la priorità al lavoro. Non c'è ricostruzione che tenga se manca il lavoro, ha detto. La ricostruzione deve ripartire sì dalle case ma soprattutto dal lavoro perché non ci sono case che tengano se non c'è la popolazione che in questa terra continua a lavorare e che in questa terra continua ancora a credere ma anche attraverso la cultura che l'Aquila negli anni ha dimostrato di avere e anche attraverso l'orgoglio che tutti gli aquilani devono rivendicare con forza l'11 giugno. Nel prossimo servizio parliamo della inaugurazione del nuovo reparto di emodinamica all'ospedale clinicizzato di Chieti. Sessore Paolucci, inaugurazione questa mattina del nuovo reparto di emodinamica dell'ospedale clinicizzato di Chieti parliamo di un reparto all'avanguardia nel Polo del Cuore. Assolutamente sì, abbiamo atteso 35 anni per avere un reparto autonomo di emodinamica con due sale attrezzate all'interno del polo tecnologicamente avanzato del cardiochirurgico di Chieti e la strumentazione messa a disposizione è di ultima generazione il che vuol dire essere davvero molto precisi intervenire con grande qualità sia grazie ai professionisti sia grazie evidentemente alla tecnologia e allo stesso tempo aumentare il numero delle procedure perché con due sale saremo in grado di garantire sia il programmato e sia la disponibilità sempre e permanente per la cosiddetta procedura di emergenza credo che davvero si faccia un vero e proprio salto di qualità atteso da 35 anni. L'inaugurazione di oggi è un punto di arrivo di un percorso che è iniziato tantissimi anni fa iniziato al San Camillo negli anni 90 e terminato qui oggi con varie tappe diciamo così fino ad arrivare ad acquisire queste due apparecchiature angiografiche di ultima generazione che ci permetteranno di trattare e gestire al meglio le patologie cardiache in modo invasivo cioè attraverso una piccola anestesia locale dal polso generalmente e di fare un po' quello che il chirurgo fa in sala operatoria dilatare le coronarie in via percutanea e addirittura quello che noi ci proponiamo di fare a breve tra qualche mese cominciare ad impiantare la valvola ortica attraverso sempre un accesso vascolare e non con la chirurgia tradizionale. Grazie all'intervento della ditta esecutrice dei lavori è stata sventata l'azione di protesta dei commercianti di Corso San Giorgio a Teramo il restringimento del cantiere è però solo una soluzione temporanea. Erano pronti a cancellare il cantiere che da tanti mesi sta occupando Corso San Giorgio soffocando le loro attività ma l'azione dei commercianti teramani è stata in qualche modo sventata per l'intervento della ditta che sta svolgendo l'opera di riqualificazione e che una volta saputo quanto fossero agguerriti e dopo un acceso confronto tra le parti ha pensato bene di accorciare e restringere l'area su cui si stanno svolgendo i lavori. In qualche modo i commercianti sono stati accontentati nella richiesta di vedere ridotte le dimensioni del cantiere in lunghezza e in larghezza in maniera da agevolare il passaggio dei pedoni. Così le transenne non sono state abbattute dagli esercenti del Corso ma più semplicemente spostate dagli operai della ditta. Una soluzione certamente solo temporanea è che non risolve il problema. Ecco perché i commercianti continuano a farsi sentire affinché il corso venga restituito alla città nella sua intierezza e i lavori terminino dopo mesi di snervante attesa. Pare che riusciamo ad ottenere piccole cose e da oggi in avanti vediamo se ci rispettano un pochettino di più. Era la nostra intenzione creare un grosso casino questa sera in quanto siamo veramente stufi, stufi, stufi per questa situazione però cerchiamo di rimanere buoni fin quando ci riusciamo siamo arrivati veramente alla frutta non ne possiamo più. Io credo che questo sia un problema non solo di noi commercianti ma di tutta la città di Teramo quindi mi piacerebbe un appoggio da parte proprio di tutta la città. Tutta la città bravo tutta la città e tutti i nostri colleghi commercianti che ne sono sempre pochi si parla tanto ma ne sono sempre pochi e adesso dico Maurizio aiutaci perché siamo arrivati alla fine. Con tutti i problemi che abbiamo nelle attività queste piccole cose che se si vogliono si fanno le dobbiamo risolvere noi commercianti perché l'amministrazione non pensa a niente qua a niente. Infatti è stato tolto secondo me il cuore della città non essendo più agibile il corso le persone non hanno più neanche un punto di ritrovo quindi non solo c'è un danno economico ma anche un danno morale della città e questo è gravissimo. È gravissimo. Dal 9 all'11 giugno scatterà la ventunesima edizione della vetrina del parco a Montorio al Vomano una tre giorni di cultura, arte ed enogastronomia abruzzese inaugurata dal commissario per la ricostruzione Vasco Errani. Un nuovo inizio è a Montorio si alza il sipario sulla ventunesima vetrina del parco dal 9 all'11 giugno edizione straordinaria come simbolo di un territorio determinato a ripartire dalle sue eccellenze l'inaugurazione con il commissario per la ricostruzione Vasco Errani. È un nuovo inizio per Montorio questo allora? È un nuovo inizio purtroppo lo scorso anno non siamo riusciti proprio a farla l'avevamo a fare agosto il terremoto di Amatrice l'avevamo spostata a ottobre abbiamo avuto l'altro terremoto e quindi c'è stata l'inclemenza proprio del terremoto nei confronti del parco e quest'anno abbiamo dovuto sfadare subito il fato per rilanciare il nostro paese per rinvigorirlo per ridargli quella voglia di tornare ad essere quello che è stato una volta il paese di Montorio. La vetrina del parco torna a promuovere e a valorizzare cultura, arte, natura ed enogastronomia dell'intera area protetta con mostri, artigianato, convegni attività per ragazzi spettacoli ed eventi musicali insomma l'Abruzzo è a Montorio ci sarà un momento clou? Ci sarà la presentazione delle guide di Repubblica? Sì, quest'anno l'abbiamo voluto all'interno di questa manifestazione di Montorio la vetrina del parco proprio per portare un'attenzione particolare ai riflettori di Repubblica su Montorio sulle aree interne su questo territorio che tanto ha sofferto nel mese di gennaio noi dobbiamo investire molto anche in promozione per fare in modo che l'agricoltura dell'entroterra l'agricoltura eroica che si sviluppa sulle nostre montagne possa essere attenzionata promossa e comunicata è chiaro che quella della vetrina del parco è una manifestazione estremamente importante centrale dove si svolgerà una serie di eventi quest'anno sia il parterre di eventi che il parterre d'Erois riferito ai personaggi politici è particolarmente nutrito questo perché l'anno scorso non è stato possibile realizzare la manifestazione quest'anno invece partiamo con uno slancio rinnovato nelle tre giornate saranno presenti con propri stand gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che hanno operato a Montorio nell'entroterra durante il terremoto e l'emergenza neve nel gennaio scorso per ripercorrere una storia di uomini e di montagna neanche un euro per il trofeo Matteotti di ciclismo da parte del comune di Pescara polemico il centrodestra che chiede una variazione di bilancio il 16 luglio ci sarà il trofeo Matteotti di ciclismo a Pescara Marcello Antonelli voi avete lanciato proprio nelle ultime ore però un grido d'allarme perché il comune di Pescara non ha messo alcun fondo a bilancio per questa manifestazione ciclistica quest'anno ci ritroviamo nelle stesse condizioni nonostante noi già in sede di bilancio di previsione avessimo presentato degli emendamenti proprio per far finanziare il contributo al trofeo Matteotti furono bocciati questi emendamenti l'amministrazione non ha stanziato neanche un euro si fa in tempo a fare una riazione di bilancio e a garantire agli organizzatori una maggiore tranquillità noi non vorremmo assolutamente che questo evento sportivo cessasse di esistere per colpa di un'amministrazione che finanzia feste e festicciole e non si preoccupi invece di salvare quelli che sono gli eventi migliori della tradizione sportiva e culturale pescarese voi avete anche chiesto che si possa attingere dalla tassa di soggiorno dai fondi che il comune ha in entrata per quanto riguarda la tassa di soggiorno certo è un'idea ovviamente non è l'unica soluzione possibile ci pare molto coerente l'utilizzo di quella tassa di soggiorno con manifestazioni che hanno ovviamente anche l'obiettivo di promuovere il nostro territorio è di rappresentare un incentivo perché i turisti continuano a venire a Pescara insomma il trofeo Matteotti da questo punto di vista ha svolto sempre egregiamente questa funzione ma se l'amministrazione ha altri fondi a disposizione può tranquillamente procedere la nostra è solo una proposta e con questo servizio abbiamo di fatto aperto la pagina dello sport calcio a 5 la Luparenze si aggiudica anche gara 2 della serie Scudetto ai danni del Pescara ieri sera al Palasind di Bassano è finita 5-2 per i Veneti che ora sono ad una vittoria dal Tricolore domani sera i Biancazzurri di Colini sono chiamati a vincere per tenere accesa la serie ma sembra una impresa disperata la strada per lo Scudetto a questo punto è più impervia che mai il Pescara calcio a 5 cade sul campo della Luparenze 5-2 il finale e va sotto 2-0 nella serie i Veneti domani sera avranno in casa il primo match point per aggiudicarsi il Tricolore mentre i Biancazzurri dovranno vincere per riportare la serie in Abruzzo ma sembra già un'impresa disperata per la squadra di Colini che ieri sera ci ha provato è stato in vantaggio nella prima parte di gara ma ha pagato le risigatissime rotazioni e una carenza di energie nervose rimaste a quel finale con rissa di gara 1 quanto accaduto in quel frangente e tutto quanto ne è conseguito nei giorni successivi con la paventata ipotesi di non giocare sospensione degli allenamenti maxi squalifica dirigenti e giocatori era ancora nella testa dei Biancazzurri così l'epilogo della partita non poteva che essere questo con Colini squalificato il vice Marzio Forte si è ritrovato ancora senza Leggero e Salas in panchina per onor di firma e allora le squalifiche di Caputo Borruto e Canal sono pesate ancora di più e dire che dopo neanche due minuti Matirosa aveva sbloccato il risultato un vantaggio che il Pescara ha mantenuto per metà frazione la Luparense priva di Tobe e Bertoni e con Foglia preferito a Brandi nel quintetto iniziale ha trovato il pareggio al tredicesimo proprio con Brandi l'esso nel tap-in dopo una respinta di Capozzo e dopo un minuto e mezzo a capovolti il risultato con la girata rapinosa sotto misura di Mancuso dopo tiro cross di Ramon all'intervallo 2 a 1 Luparense nel secondo tempo il Pescara prova a fare di più ma sono i padroni di casa ad allungare con il sinistro di prima intenzione di Cocco al sesto il Pescara non riesce a riaprirla e nel finale schierando Tenderini portiere di movimento il punteggio si dilata l'estremo Miarelli segna da rinvio Duarte timbra la rete del 4 a 2 poi Mancuso fa doppietta appena prima della sirena gara 2 agli archivi ora per gara 3 serve un miracolo che il Pescara purtroppo non sembra mentalmente pronto a fare per il calcio Lega Pro ormai ufficiale il direttore sportivo del Teramo sarà Giorgio Repetto l'ex DG del Pescara già iniziato a lavorare per la prossima stagione e il suo primo compito sarà quello di individuare l'allenatore in pole position Antonino Asta e Ottavio Palladini Jacopo Forcella A Teramo inizia l'era di Giorgio Repetto ormai manca solamente l'annuncio ufficiale ma non ce ne sarà bisogno visto che il nuovo direttore sportivo Biancorosso sarà presentato quasi certamente alla stampa sabato mattina dal presidente Luciano Campitelli che dunque romperà il lungo silenzio che l'ha accompagnato nella parte finale di questa stagione d'altronde l'ansia legata ai destini play out della sua squadra lo avevano convinto a non esporsi per non prestare il fianco ulteriori polemiche in un momento delicatissimo della stagione ma sotto traccia specie a salvezza acquisita la dirigenza del diavolo ha iniziato a pianificare quella che dovrà essere la stagione del riscatto dopo due annate decisamente in chiaroscuro e allora sarà proprio Rebetto a scegliere a chi affidare il nuovo progetto tecnico i nomi sono quelli usciti nelle ultime ore con Asta e Palladini il primo però sembra avere un piccolissimo vantaggio a contendersi la panchina del teramo ma attenzione perché potrebbe spuntare fuori come accade spesso un nome a sorpresa attraverso proprio la fitta rete di conoscenze collaboratori che la N.O.D.S. ha sviluppato negli anni un'eventualità in grado di sparigliare le carte anche se l'ex allenatore di Lecce Ferralpisalò è da tempo sul tacuino del diavolo e complice anche il carattere di allenatore e giocatore sarebbe l'identikit ideale per la formazione bianco-rossa non è escluso che questo weekend come accaduto per la scelta di Repetto possa portare clamorose novità anche per la panchina nell'attesa di iniziare la politica di abbassamento del numero dei contratti una medicina doverosa per la società bianco-rossa si vorrà ripartire con uno slancio differente in una stagione quella che parte a luglio nella quale sarà obbligatorio non sbagliare nulla o quasi mille giovani ragbisti provenienti da tutta Italia hanno partecipato al nono torneo giovanile di rugby a San Buceto valevole per il quarto Memorial Lamberto Pompa ascoltiamo il presidente del San Buceto Rugby Antonio Angelone Presidente Angelone diciamo la verità qui sembra Twickenham no no magari in piccolo in piccolo diciamo Twickenham per i bambini quindi San Buceto per i bambini questo è sempre stato il nostro obiettivo quindi rimarrà e sarà sempre non a edizione dedicata ai più piccoli prima settimana di giugno quindi con tanta voglia di fare sempre meglio l'anno prossimo è il decennale quindi faremo cose ancora migliori quasi sembra di essere non so altrove anche in luoghi dove fare sport è facile qui voi invece dovete superare grandi difficoltà ogni volta lo fate col sorriso lo fate con la prospettiva e lo fate perché il rugby vi dà proprio internamente è una forza che non si trova dappertutto allora il rugby è uno sport di nicchia come dicevo a tanti questa mattina è uno sport che però ha delle caratteristiche completamente diverse da tutti gli altri sport quindi non si finisce con la partita si finisce successivamente con comunque nello stare insieme si ha bisogno di stare insieme fare in modo che i ragazzi possano stare insieme al di là di quello che è poi l'incontro del giorno noi partiamo dai piccoli perché abbiamo la forza di portare avanti e lo vogliamo fare i piccoli under 6 under 8 under 10 under 12 la 14 la 16 la 18 poi quando si tratta della categoria più grande il discorso è un pochettino più complicato perché è un campionato molto più importante però c'è da dire anche che noi facciamo la C che è la cadetta praticamente chi non può giocare in Serie A gioca da noi su questo campo abbiamo la femminile la femminile sabato e domenica andranno a giocare a Calvisano le finali di Coppa Italia quindi tante ragazze che sono oggi qui su questo campo stanotte partono col Pullman e vanno a giocare a Brescia quindi noi ci sentiamo un club completo con un bel collegamento col Gran Sasso e in generale io credo di dire un buon comportamento e collegamento con tutte le squadre aquilano finisce qui la seconda edizione del TG6 vi ricordo però l'appuntamento di questa sera con Velo il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo con la conduzione di Jacopo Forcella e con la presenza di Luciano Rabottini in studio grazie per l'attenzione il TG torna alle ore 23 con la terza edizione buona serata grazie per la visione